La sua corsa è in mezzo all'aiuola di fronte al palo dell'illuminazione pubblica. È accaduto oggi, il mercoledì 19 settembre, intorno alle 14.30, sulla strada provinciale 53, all'altezza di località Perassone, a un 62enne di Alpette, a bordo della sua Toyota RAV4. Sul posto sono intervenuti la crocerossa di Rivarolo Canavese e carabinieri del nucleo radiomobili di Ivrea. L'uomo, rimasto lievemente ferito, dopo le prime medicazioni è stato trasportato all'ospedale di Quornier per gli accertamenti del caso. Grazie a tutti.